Buonasera a tutti, sono Rodigari Andrea Vittorio, Presidente del Consorzio Turistico Val Bondione e sono qui per presentarvi gli eventi che andremo a proporre tutti i turisti che arriveranno a Val Bondione per il periodo estivo, per aliettare le loro vacanze e per dare la possibilità a tutti di scoprire le bellezze della Val Bondione. Il Consorzio è nato nel 2010 e ha appunto come scopo quello di andare a promuovere il territorio in tutte le sue forme e in tutte le sue bellezze sia durante il periodo estivo che durante il periodo invernale. Quest'anno il Consorzio ha inteso promuovere un turismo che toccasse tutti gli ambiti che il turismo appunto dà, ovvero da quello culturale, un turismo enogastronomico, sportivo e un turismo verde. In questo il Consorzio ha individuato tre eventi principali che promuoverà durante tutto l'arco dell'estate e che saranno gli eventi top della stagione estiva a Val Bondione. La primo evento che andiamo a ricordarvi è la prima apertura delle Cascate del Serio, il 24 giugno, la prima apertura in diurna abbinata al Festival delle Alpi di Lombardia e che ogni anno porta circa 5.000 turisti a visitare le grandiose Cascate del Serio. Il 21 luglio, la seconda apertura delle Cascate del Serio in notturna, ovvero con la quinta edizione della camminata enogastronomica La Cascata tra Notte e Gusto, siamo arrivati alla quinta edizione e quest'anno come novità abbiamo due diversi percorsi. Un percorso che si snoderà sulle vie e sentieri di Bondione e un percorso invece che andrà a toccare la frazione di Lizzola. Il secondo evento top dell'estate di Val Bondione è il 14 agosto, il Capodanno d'estate Busker Blues Festival, ovvero dalle 17 in tutte le piazze di Val Bondione, quindi compresa anche Lizzola e Fiume Nero, ci saranno degli artisti di strada che eliteranno la serata con Brani Blues. La serata si concluderà al Palazzetto dello Sport con la Travis Blues Band. Questo evento è stato inserito all'interno del cartellone di Bergamo Blues ed è l'evento di chiusura di tutta la rassegna. Ricordiamo infine che dopo il concerto ci sarà il lancio delle lanterne nel cielo di Val Bondione a chiudere il Capodanno d'estate, la prima edizione del Capodanno d'estate di Val Bondione. Il 19 agosto ricordiamo la terza apertura delle cascate del Serio in diurna, quindi dalle 11 alle 11.30. In abbinato a questo, nel weekend, dal 18 al 19 agosto, ci sarà la seconda edizione della mostra convegno Acqua, Ferra e Fuoco. Il 16 settembre, in occasione della quarta apertura diurna delle cascate del Serio, ci sarà la rievocazione della festa di Maslana con possibilità di pranzo e di intrattenimento musicale al Borgo Antico di Maslana e una festa che è stata richiesta da tutti i proprietari di Baite di Maslana ed è un'occasione per poter ammirare queste magnifiche Baite in tutta la loro bellezza.